Ben trovati a questa nuova puntata di Ditelo ad Emiliano. Quest'oggi seduta sul nostro trono, come lo chiamiamo noi, qui con noi a vostra disposizione l'assessore all'ambiente Maria Maugeri. Buon pomeriggio, assessore. Buon pomeriggio a voi. Con l'assessore chiacchiereremo un po' di tutto, ovviamente però la linea della trasmissione lo deciderete voi con le vostre domande. 080 501 9998 per chi vuole intervenire in diretta e appunto porgere delle domande all'assessore Maugeri. Io comincerei subito con una buona notizia che lei mi ha anticipato pochi minuti fa, sono arrivati i fondi per la Fibronit. Sì, in realtà noi avevamo gran parte dei fondi che c'erano già stati dati dalla regione, però siccome questo progetto di cui stiamo preparando il bando è un progetto complesso ed è stato anche modificato proprio dalla commissione via regionale, quindi è diventato un progetto più costoso, avevamo il problema di 3-4 milioni di euro, che non sono proprio una cifra piccolissima, da recuperare, per cui eravamo abbastanza preoccupati. Stavamo pensando all'opzione di fare un bando a step, diciamo a più livelli e in più fasi, in modo da recuperare tempo e poi denaro sul ribasso della gara. Ma era una soluzione che sinceramente almeno a me non piaceva. Adesso invece la regione ci è venuta incontro ancora una volta, per cui abbiamo avuto la conferma proprio in questi giorni che sono stati stanziati questi soldi a disposizione, sempre fissati a sempre di finanziamenti europei e anche regionali, direttamente regionali, che copriranno l'intero importo, per cui potremo fare un'unica gara e questo insomma faciliterà l'iter innanzitutto in termini di tempo e poi ci lascerà più tranquilli proprio perché quando sappiamo di avere i finanziamenti a posto, diciamo, chiaramente viaggiamo in maniera più tranquilla dal punto di vista dell'iter amministrativo. Devo dire tra l'altro che la questione Fibronit è una di quelle più sentite, almeno stando al termometro delle telefonate che arrivano qui in studio. Proprio l'altro giorno, due giorni fa, credo, mi è arrivata una mail di un signore che mi diceva, forse era una persona che si era trasferita da poco in quel quartiere, proprio nei pressi della Fibroni, in cui mi diceva, ho un bambino di tre anni, cosa mi può dire sulla Fibroni? E quindi ho dovuto fargli un po' il resoconto di quello che era accaduto finora e l'ho tranquillizzato per una serie di cose e poi gli ho dato appunto questa buona notizia che per l'inizio dell'anno nuovo dovremmo appunto inaugurare il cantiere, questa volta quello definitivo. Incorciamo le dita, intanto prendiamo la prima telefonata. Pronto? Sì, buonasera, sono Piero, chiamo dal quartiere Picone di Bari. Volevo salutare la dottoressa Maugeri, che è molto attenta alle questioni ambientali del comune di Bari. Dottoressa, una domanda semplice, anche per dare una spiegazione non solo a me, ma anche a tutti i cittadini baresi. L'aumento della tasso a Bari è stato dovuto a che cosa? Alcuni dicono che a Bari viene fatta male la raccolta differenziata e che non si superano determinati tetti. E questa è la questione, o come dice il sindaco Emiliano, perché ci sono stati gli aumenti? Perché la legge Monti ci condanna perché non abbiamo superato determinati tetti. Aspetto una sua risposta. La ringrazio e buonasera. Grazie per il suo intervento. Devo dire che c'è ancora molta confusione. Abbiamo avuto modo di spiegarlo più volte, però effettivamente la comunicazione non è mai sufficiente su questi temi così delicati. Comunque la decisione dell'amministrazione è assolutamente conseguenziale alle disposizioni di legge di tipo governativo. Per cui nel momento in cui si è deciso a livello nazionale che l'intero costo del servizio dell'azienda deve ricadere e deve essere ricavato in maniera più semplice dall'imposizione, quindi dalle tasse, chiaramente questo ha significato per noi necessariamente un aumento di questa tasse. Fra l'altro, cosa che abbiamo anche ripetuto, negli anni precedenti la nostra amministrazione si è mantenuta sempre in una posizione di salvaguardia rispetto all'aumento della tasse. E lo abbiamo fatto credendo in questa cosa. Mentre molte città italiane, la gran parte delle città italiane, ha attuato un sistema graduale di aumento. Per cui quando si è arrivati poi a questa imposizione del governo, molte città, diciamo così, si sono trovate quasi avvantaggiate. Nel senso che il danno che hanno procurato poi ai cittadini con l'aumento della tasse è stato minore rispetto a noi che abbiamo dovuto fare un salto in avanti molto forte da questo punto di vista. Quindi questo è innanzitutto. Poi il rapporto che c'è tra le tasse che noi paghiamo e i servizi che riceviamo, questo è un rapporto indiretto, nel senso che noi potremmo pagare pochissimo o moltissimo e avere un pessimo o un ottimo servizio. Sulla differenziata è chiaro che l'Europa e anche il governo nazionale adesso sta premendo perché noi si arrivi alla scadenza con una percentuale precisa e questo lo ha fatto soprattutto per sollecitare quei comuni, e ce ne sono tanti anche in Puglia, assolutamente lenti su questo tipo di obiettivo. ma il funzionamento, ripeto, della differenziata dipende moltissimo dalla predisposizione, chiamiamo così, all'innovazione e al cambiamento da parte dei cittadini e anche chiaramente da come l'azienda fa funzionare questo servizio. Perché ci sono, per esempio, alcune cose che a mio parere ancora non sono a sistema, io lo dico pur essendo l'assessore di riferimento, perché dobbiamo ancora mettere, ripeto, nero su bianco, alcune questioni che a meno a me in questo momento non mi appaiono ancora in una situazione chiarissima. Dico un esempio per tutti, no? Noi, ieri io ho fatto un sopralluogo a Carbonara, su richiesta di un cittadino, perché proprio la sua strada era una strada interessata dal porta a porta, quindi raccolta domiciliare, come si fa adesso nel centro storico a Bari, così si fa nel centro storico a Carbonara, e questo cittadino lamentava il fatto che sotto il portone proprio di casa sua la gente lasciava le buste dei rifiuti abbandonati dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera, per cui questo cittadino conviveva giustamente con i sacchetti tutta la giornata, con tutto quello che poi ne viene di conseguenza. E mi ha chiamato allarmato, io sono andata a verificare, ma lì per esempio posso fare ben poco, ho verificato, abbiamo chiesto all'Ami di mettere un cartello che ricordi in quell'angolo, che è vietato conferire rifiuti fuori dagli orari, eccetera. Ma più di questo, per esempio in quel caso, io non posso addebitare all'azienda un cattivo funzionamento della raccolta differenziata, perché c'è il porta a porta, tra l'altro preparato, c'è stata un'azione di sensibilizzazione, volantinaggio casa per casa, quindi tutti sanno che devono conferire ad una certa ora. La interrompo, ossessore, perché abbiamo un'altra telefonata, pronto? No, abbiamo verso l'ascoltatore, che preghiamo di richiamare, quindi ricapitoliamo, dal 2013 il gettito della Tarsu dovrà coprire l'intero costo del servizio. Esatto, quindi se fino all'anno scorso si copriva, che ne so, entro il 74%, il resto si copriva con... Certo, c'erano percentuali di tipo diverso che ci lasciavano anche la possibilità di agevolare ancora il cittadino rispetto all'aumento. Ok, la telefonata l'abbiamo di nuovo, pronto? No, non abbiamo... Siamo destinati. Ok, allora stava dicendo. Poi, insomma, ci sono delle cose, ripeto, che ancora non funzionano. Per esempio, io sto chiedendo adesso all'azienda di non procedere con la raccolta, né porta a porta, né quella stradale differenziata in altri quartieri, se prima non abbiamo messo a sistema i quartieri dove stiamo. perché se non rischiamo di fare come di prestare un servizio non completamente corretto, allora conviene che nei quartieri dove siamo evidenziamo prima le criticità anche di quel servizio che stiamo fornendo e poi ci apriamo ad altre, anche se l'esigenza chiaramente dell'azienda, io capisco, è quella anche di accelerare rispetto alle percentuali. Però, per esempio, hanno scelto, e questa invece è una cosa condivisibile, di aprire in maniera più forte, per esempio, sulla differenziata negli esercizi commerciali, quindi gli ipermercati piuttosto che altri. Ci torniamo subito, abbiamo l'ascoltatore in linea, speriamo che ci sia questa volta. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta. Posso? Prego, prego. Senta, buonasera, buongiorno. Io la sto chiamando in riferimento per quanto riguarda la disintestazione sulle strade. Cioè, quest'anno non è stato fatto nulla, né un lavaggio di strade, né un lavaggio di bidoni, né la disintestazione dei ratti. Riconosco la voce. Noi siamo nel quartiere Libertà. Non soltanto siamo isolati dal mondo per quanto riguarda il livello commerciale, ma in più siamo assaliti dai topi, dai ratti, che entrano nei postoni. Cioè, fatevi un giro, fatevi un giro nel quartiere Libertà, confini col Murat. Noi siamo in basi da topi. Grazie, grazie per il suo intervento, Assessore. Mi sembrava di riconoscere la signora Pasqua che telefona sempre per Libertà, però non sono certissima. In affezionatissima. In ogni caso rispondo volentieri, dicendo quello che però ho detto più volte. Le operazioni di disinfestazione e derattizzazione avvengono ormai con un calendario preciso, così come il lavaggio delle strade. Non esiste più l'operazione Bari Pulita che si faceva nel passato, ma esiste un'operazione di lavaggio delle strade, addirittura con una frequenza superiore rispetto al Bari Pulita. E questi calendari sono a disposizione sul sito dell'Amiu. Uno basta che clicca sulla voce interessata e va a vedere quando arriva questa cosa nel mio quartiere. Se non ci dovesse essere in quel caso, c'è il numero verde dell'Amiu o i numeri dell'amministrazione, compreso il mio assessorato, per fare questa verifica. Ma queste cose accadono e accadono tutto l'anno e ormai, devo dire, con una sistematicità anche molto, molto puntuale. Allora, quello che però accade anche in contemporanea, in modo parallelo, è che noi non ce la facciamo a tenere dietro questa cosa. Stamattina, per esempio, mi hanno chiamato, credo, in un'intervista telefonica, dicono, la città è piena di mosche. Va bene. Io, per esempio, sono stata sabato e domenica a Castellaneta, non riuscivamo a mangiare, per esempio, eravamo ospiti a casa di amici fuori, perché le mosche invadevano completamente la situazione. Settembre, ottobre è il periodo delle mosche. Questo è sempre stato e sempre sarà. Sulle mosche l'Amiu può fare ben poco. Certo, una disinfestazione in più tardiva, perché in questo periodo non sono previste disinfestazioni, perché seguono una cadenza che ha a che fare con il fatto che gli animali prima sono larve, poi diventano animali adulti, eccetera. Quindi si segue un certo calendario. Ora, ripeto, magari non è sufficiente, ma non è sufficiente, soprattutto perché noi continuiamo a dare l'habitat naturale a questi infestanti, in modo particolare i roditori a cui faceva riferimento la signora prima. Insomma, i topi si cibano, è vero adesso, anche di plastiche, di materiali addirittura non commestibili per noi. Però se si evitassimo, per esempio, quella situazione di Carbonara, è proprio, come dire, la situazione ideale perché i topi possano vivere e pascolare in maniera tranquilla. Quindi è un invito a nozze. Quindi è chiaro, poi ripeto, se la situazione invece non va, cioè io nella mia strada non mi ho mai visto pulire, il mio cassonetto non mi è stato lavato, allora si chiama, si fa la denuncia specifica e noi interveniamo. Io ricevo ogni giorno richieste di approfondimenti, ritorni di queste operazioni e noi lo facciamo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto?